buongiorno bentornati hai grandi pretese cosa sogni beh vorrei partire da questo concetto in particolare da un film the millionaire del 2008 il film può essere considerato un percorso di individuazione ovvero un cammino verso la ricchezza interiore il vero tesoro a cui noi dobbiamo accedere per diventare noi stessi quel tesoro che è appunto dentro ognuno di noi jung a proposito dice se non affrontiamo attentamente la nostra dimensione inconscia non potremo mai essere liberi di guidare la nostra esistenza e non potremo accedere a questo tesoro interiore bene il film è ambientato a mumbai e narra la storia di un ragazzino di una baraccopoli che tenta la fortuna in uno spettacolo a quiz l'ispirazione del film è multiculturale infatti il romanzo originale le dodici domande è di un indiano ma il regista dandy boyle e lo sceneggiatore sono inglesi sono inglesi presentano dunque una mumbai dove si mescolano tradizioni indiane ed influenze moderne supportate dalla colonna sonora che combina una musica classica indiana con l'hip hop la musica house e il rhythm and blues la storia inizia con jamal malik un orfano squattrinato dei bassi fondi di mumbai a cui manca una risposta giusta per vincere 20 milioni di rupie nel quiz televisivo chi vuole essere milionario al termine della puntata che riprenderà il giorno seguente con la domanda cruciale il ragazzo viene arrestato con l'accusa di frode perché data la sua estrazione è impossibile che possa conoscere tutte quelle risposte un cinico ispettore di polizia lo interroga per tutta la notte ma jamal spiega che le domande sono legate agli eventi del suo passato e il film ne ripercorre i momenti cruciali con dei flashback corrispondenti ad ogni domanda inizia quando jamal ha cinque anni e insieme al fratello salim fugge dalle rivolte di bombay del 1992 poi incontrano la giovane natica che diventerà l'amore della sua vita e la storia continua rivelando altri momenti in cui jamal e salim usano l'intelligenza per sopravvivere a tutto dagli incontri agghiaccianti con i gangster che mutilano i bambini di strada allo struggimento di jamal per natica c'è tutto ma tutto questo basterà a convincere l'ispettore di polizia a liberarlo e a trovare il suo amore ora in occidente il successo del film è dovuto al fatto che straborda di energia positiva e di gioia di vivere sfruttando al massimo le cineprese digitali il direttore della fotografia trascina il pubblico nel cuore della frenetica e vibrante mumbai ma il film alla fine vinse otto otto oscar tra cui quello per il miglior film è il miglior regista bene torniamo alla nostra domanda come fare per accedere a quel vero tesoro che si trova dentro ognuno di noi e a questo punto iniziamo a chiederci quale possa essere la via per conquistare un certo margine di libero arbitrio rispetto ai nostri condizionamenti interni ed esterni il tema costituisce il punto centrale della teoria di jung infatti nel suo concetto di inconscio e insita l'idea di una pulsione alla autorealizzazione alla realizzazione dell'individualità per cui l'uomo è naturalmente proteso a emanciparsi dai valori collettivi e quindi a conquistare una sua soggettività che poi rappresenta il suo vero tesoro a questo processo jung da il nome di individuazione individuandosi appunto l'uomo si conforma unicamente ad una sua peculiarità il che è ben diverso dall'essere egoisti o è ben diverso dall'individualismo per jung la realizzazione della personalità non è soltanto un processo di sviluppo e quindi di crescita ma è un tendere all'unicità dell'essere l'individuazione è pertanto un lavoro psicologico di recupero e di sviluppo della propria matrice individuale se non esistesse questa tendenza la vita non sarebbe altro che un'esistenza brutale cioè indifferenziata quindi del tutto animale come lo è purtroppo per la maggior parte delle persone che non sospettano neppure che dietro alla loro maschera si compie il tradimento di un sé autentico soffocato dagli atteggiamenti e dai valori della coscienza collettiva quindi possiamo dire che il termine individuo che significa non diviso l'individuazione è il processo per cui la persona diventa se stessa ovvero un essere umano intero inscindibile e differenziato dalla psiche collettiva ora fin tanto che perdura la rimozione la personalità è identificata in maniera unilaterale con l'io cosciente che è arroccato in una posizione egocentrica e gode di una falsa coscienza di una falsa autonomia essendo in realtà agito dalle immagini l'io è agito dalle pulsioni dai complessi della psiche inconscia nel momento in cui si avvia il processo di individuazione della personalità la coscienza entra in rapporto con il mondo inconscio relativizzando quindi le identificazioni relativizzando gli atteggiamenti dell'io rispetto ad una dimensione di alterità che si fa strada pian piano dalla psiche profonda l'io è il mediatore tra mondo interno e mondo esterno ed è adesso orientato al raggiungimento della totalità ovvero alla integrazione delle varie componenti della psiche conscia di quella inconscia ciò che in termini jungiani si definisce attivazione dell'archetipo del sé per jung il sé è il principio creativo e unificante della personalità cioè l'archetipo a cui si attribuisce il massimo potenziale espressivo dell'individuo e quindi il raggiungimento della totalità psichica il sé è il centro di questa totalità così come l'io è il centro della coscienza il sé dunque ha la funzione di mediazione tra gli opposti sotto l'archetipo del sé l'io è continuamente posto a confronto con le esigenze apparentemente contrastanti della vita le polarità di bene e di male di umano e divino di libertà e di relazione di solitudine e di comunione o anche se volete di femminile di maschile sono le coppie archetipiche con cui ogni esistenza deve confrontarsi coscientemente a meno di non aderire pienamente ai valori collettivi il che costituisce per jung il vero fallimento dell'esistenza umana intesa come compimento dell'individualità la strada dell'individuazione è per jung anche una scelta sacrificale in cui si rinuncia al protagonismo assoluto dell'io questo non significa che l'io deve sottomettersi o deve annientarsi questo aprirebbe lo spazio alla follia del resto lo stesso jung ribadisce che l'io non deve mai venire meno altrimenti si verificano dei fenomeni psicopatologici il sacrificio richiesto è il sacrificio dell'autosufficienza dell'io che corrisponde ad una apertura a ciò che nel riconoscimento dei propri limiti si trova oltre l'io e quindi trascende la sua ampiezza trascende l'orizzonte dell'io l'io è costretto ad andare oltre il suo orizzonte come sosteneva jung il processo di individuazione presuppone la relazione tra l'io l'inconscio soprattutto attraverso una sostanziale apertura al simbolico bene io mi fermo qui e spero che possiate trovare nel film vari agganci con tutto questo discorso che abbiamo portato avanti e vi informo inoltre che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche per cui se volete richiedermi una consulenza seguite le indicazioni iscritte al di sotto di questo video buona giornata